e quindi a chi facciamo salire poi ci mette su youtube ci voglio fare una foto ma dopo esce di qui esce la foto solo un pochino davanti siamo tutto a posto a tutti quando mi ha detto lo rifacciamo altri mille 8 anni bellissimo è la prima volta che lo sa una bellissima esperienza volare questa vana col via ciao a tutti 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 ciao a tutti